Per la prima volta nella storia del Vespismo arrivano strumenti unici, speciali e formidabili. Dopo questo tu e la tua Vespa non vi guarderete più allo stesso modo. Oggi la vita del Vespista è più difficile rispetto a pochi anni fa e domani sarà anche peggio. I ricambi sono sempre più costosi e sempre più inutili. Ci sono pochi meccanici capaci di lavorare sulla Vespa e di quei pochi si deve fare una selezione per bravura e onestà. Se trovi il professionista con 40 anni di esperienza, forse è bene che te lo tieni caro, perché se finisci da uno dei tanti, o uno dei pochi in questo caso, non è detto che portandogli la Vespa a riparare, questa venga effettivamente riparata. Con una prospettiva simile, una sciocchezza, rischia di farti posare la Vespa per sempre. La soluzione c'è. La soluzione si chiama programma speciale. Un programma speciale è uno strumento che ti aiuta a risolvere quasi tutti i problemi della tua Vespa, sia per strada, sia in officina. Il programma speciale arriva in aiuto dei neofiti e di chi è non proprio pratico. Infatti c'è una parte che ti mostra come risolvere un guasto e una parte che ti spiega come individuarlo. Perché se vuoi risolvere un guasto, devi prima trovarlo. È proprio questa la grandezza di questo strumento. Impari la meccanica della Vespa mentre risolvi le avarie della tua stessa Vespa. Significa che non parti dai concetti base dei motori, parti dall'imprevisto che ti è capitato e impari risolvendo proprio il tuo imprevisto. Ti rendi conto? Sei rimasto a piedi, ti trovi fermo in mezzo al traffico, la tua Vespa impanna nel centro cittadino e tu non sai cosa fare? Ora hai un programma speciale che ti insegna a gestire qualsiasi imprevisto ti possa capitare per strada. Vorresti farti la tua piccola officina ma non sai da cosa iniziare né come continuare? C'è un programma speciale che fa il caso tuo. Hai la Vespa ingolfata o non arriva più benzina. La candela è imbrattata di olio oppure non scocca più la scintilla. Il cambio è duro o la frizione scende a vuoto. Per ogni impianto della Vespa c'è un programma speciale che si occupa specificamente di quell'impianto. Vuoi sapere che fare quando le cose vanno storte? Che fai se si spana un bullone mentre smonti lo statuore? Vuoi avere un piano B? Trovi anche il programma speciale che ti spiega tutti i piani B che ti servono. Se possiedi tutti i programmi speciali, possiedi quasi 200 test che ti permettono di gestire per strada e risolvere in officina, quasi qualsiasi cosa ti possa capitare. Quasi 200 test dedicati alla Vespa. Alcune Vespe. E su www.sorioinofficina.com scopri per quali modelli ho creato questi straordinari strumenti. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma qui ho già detto tanto. Per cui, qualsiasi altra cosa vuoi sapere, chiedi e ti rispondo. Vuoi saperne di più? Vuoi conoscere il prezzo? Vuoi scoprire se è tutto vero? Allora vai su www.sorioinofficina.com, apri la pagina dedicata ai programmi speciali e scopri come ti trasformano. Ho finito, ma voglio lasciarti con un compito che potrebbe salvare la tua Vespa, oppure potrebbe farti viaggiare con più serenità. Non appena puoi, nella tua officina, fai il check della candela. Come ti sembra? PS. Attento alla candela magra perché quella fa grippare. Quindi in caso, contattami. Sono in officina. Passione a due tempi.